E questo è l'esatto punto nel quale lo scuolabus del comune di Teramo ieri mattina è finito intorno alle 14, 14.30. Come vedete non si tratta assolutamente di una scarpata come è stata definita dai giornali perché le gomme sono finite in questo tratto in una zona completamente in sicurezza dunque non poteva accadere nulla di particolare per la vita dei piccoli bambini, per la vita dei 30 scolari che si trovavano sullo scuolabus. In pratica dal racconto che abbiamo ricostruito nella mattinata di oggi i fatti sarebbero più o meno andati così. L'autobus nel rigirare in questa parte di strada è finito con le gomme su questa scarpata. Ripetiamo, una scarpata in completa sicurezza. Sono stati fatti scendere i bambini in modo tale che in mezzo potesse fare questa piccolissima salita che vedete nelle immagini e quindi ripartire tranquillamente. Ripetiamo, i bambini non rischiavano assolutamente la vita. Franco Flammini è colui al quale alcune mamme, una mamma in particolare ha chiesto di intervenire con il trattore per poter dare una mano allo scuolabus. Esattamente che cosa è successo ieri? Niente, mi hanno chiamato, io sono arrivato con il trattore e mentre sono arrivati i bambini sono scesi senza che gli ho detto niente, tutti sorridenti, tutti tranquilli i bambini. Non rischiavano quindi la vita? Non rischiavano la vita, stavo qui tranquilli fermi in mezzo alla strada e poi appena sono scesi i bambini io non sono intervenuto nel senso che da soli il pulmino è ripartito da solo. Insomma quindi nessuna tragedia in vista? Nessuna tragedia in vista, no.